ecco questo divorarsi a vicenda dell'uomo e del divino è il sa il darsi il darsi incessante l'uno all'altro per amore il vero grande orgasmo cosmico che è l'unione con la divinità è un darsi reciproco attraverso il quale avviene la creazione è chiaro che quando tu comprendi questo e ritrovi l'unione sei in grado di co creare insieme alla divinità gli eventi sei complice e quindi sei il mago